Abbiamo pensato di fare questo va-de-me-com per la gestione del rischio calore per dare uno strumento aggiornato e importante ai nostri RLS per la gestione del microclima all'interno dell'azienda, anche perché il microclima è di fatto un rischio da gestire. Questo è quello che ci dice il decreto legislativo 8108, in particolare nei suoi articoli 180 e 181. Il rischio calore, la gestione del calore è fortemente legata al cambiamento climatico, il cambiamento climatico che sta avvenendo nel nostro pianeta e questo naturalmente ha delle forti ricadute anche nei luoghi di lavoro. È per questo che ci sono tanti infortuni legati anche al rischio calore e noi diamo degli strumenti per cercare di valutare in maniera corretta anche nel DVR questo rischio fisico. In particolare spieghiamo i nostri RLS, i particolari indici che vengono utilizzati per monitorare questo rischio calore, l'indice PMV, l'indice 8 index, l'indice VBGT, l'indice PHS. Ma non solo questo, il VADEMECON non è solo questo, è anche l'identificazione delle patologie di calore, quindi cos'è lo stress da calore per esempio, e anche la valutazione dei segni e sintomi che possiamo verificare sui nostri lavoratori. Il VADEMECON si conclude con un decalgo per la prevenzione anche col contributo di INAIL e di WorkLimate e in particolare per evidenziare quello che si può mettere in campo come RLS e come organizzazioni sindacali per limitare questo rischio il più possibile.